Duce, le scrivo quanto seguo, particolare cura dedica all'organizzazione dei gruppi di attivisti da lasciare sul posto o eventualmente da irradiare al sud. Iniziative ben consistenti sono state prese per Termi, Rezzo, Grossetico, Firenze, Livorno, Pisa, Radio Candestine, Tifonofine, 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 Tifonofine. Voi, fanghiatori, siete stati scelti per difendere la mafia dall'invasore allenato. Scusa compagna se ti disturbo, ma di questi giorni non mi resta mai problemi. Scusa, grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.